L'Università di Camerino attiva il corso di laurea magistrale in gestione dei fenomeni migratori e delle politiche di integrazione nell'Unione Europea, unico nella Regione Marche che affronta una tematica sempre più strategica non solo per il nostro Paese, ma a livello internazionale, per la quale è necessario formare figure professionali con competenze specifiche. Ha come finalità generale quella di formare esperti nella governance delle politiche migratorie nell'Unione Europea e più nello specifico una figura di esperto in grado di operare sia nell'ambito di istituzioni internazionali, nazionali e locali che nel contesto di associazioni e organizzazioni no profit che si occupano di migranti, rifugiati e richiedenti asilo o che programmano e gestiscono progetti di integrazione dei migranti, nonché progetti di sviluppo, ecosviluppo e di cooperazione. Bene, riempie un po' una mancanza che c'era nella nostra scuola di giurisprudenza perché non avevamo la laurea magistrale in coerenza con il triennio. Questa che appartiene alla LM90, studi europei, ma cercando, finalizzando la ricerca, la formazione alla politica dell'Unione Europea e della migrazione, ci consente di chiudere questo percorso del cosiddetto 3 più 2. Noi abbiamo fatto questa scelta perché è una scelta tecnica, non c'è dietro nessun tipo di disegno se non la formazione, la preparazione, le competenze di un personale preparato alla gestione dei flussi migratori.